ho il motore questo è l'altro motore la marmita doppio freno vai 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 o sennò si scalda il motore super super tric dragon ball è che va a gustare il motore filmiamo il motore aspetta fermo 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 fermati che allora questo è il motore doppio motore no le gambe questa è la marmita questo è il gas i freni doppio doppio freno gli ammortizzatori faccio vedere come tengono vai vai adesso vai piano questo è un sì tira l'aria farlo scoppitare senza freni a 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